E con i ritmi afro-reg dei senegalese Turcunda, iniziamo la nostra esplorazione dell'Africa, Sub-Sahariana. Ok, ci interrompiamo anche se ve li consiglio caldamente, i Tourecunda, Turcunda del Senegal. Eccoli qua. Io li conoscevo già, non è che lo scoperti adesso. Sia chiaro. Eccoci qua, quindi affronteremo questa regione, si chiama Sub-Sahariana perché sa Sub, il Sahara, Sub, ormai sapete che significa sotto, come vedete è un'ampia porzione del continente africano e comprende 35 nazioni ed è la macro-regione più ampia del continente, quindi 60% dell'Africa è stata, diciamo, assegnata a questa suddivisione Sub-Sahariana, volendo anche Africa centrale potremmo definirla. Ok, quindi, ne fanno parte le nazioni che vedete qua, ora tutte 35 magari le elencheremo più avanti e dovrete così approfondire la vostra conoscenza riempiendo questa attività. L'Africa Sub-Sahariana è bagnata a nord-est dal Mar Rosso, est dall'Oceano Andiano, ovest dall'Oceano Atlantico e confina a nord col Sahara Occidentale, cioè Marocco, Algeria, Libia, Egitto, a sud con Angola, Zambia, Malawi, Mozambico, eccetera, eccetera. A ovest c'è l'Oceano Atlantico che forma il Golfo di Guinea, eccolo qua, il vasto Golfo di Guinea, nell'area settentrionale. Abbiamo, diciamo, le ultime parti del deserto del Sahara, che si chiamano Propaggini, cioè ultimi elementi, ok? Poi a nord la montagna più alta è qui, lei mi consigli nel massiccio del Tibesti, ok? E poi abbiamo le montagne della Rift Valley, eccole qua, che abbiamo già visto quando abbiamo fatto l'Africa in generale, dove ci sono le montagne più alte dell'Africa, quelle oltre i 5.000 metri, ok? I fiumi più importanti della zona sono il Senegal, eccolo qua, il Niger, a nord il Congo, nella parte meridionale, ovviamente il Nilo che nasce qua e se ne va verso su, verso nord, ok? Poi i laghi abbiamo il lago Volta, qui nella zona del Ghana, il lago Chad, nell'omonima nazione e al confine con altre, e poi i laghi Turchana, Vittorio e Alberto, nella zona qui centrale, e poi ovviamente i laghi grandi della, non scusate, nella zona centrale ovviamente c'è il Chad, e qui nella zona della Rift Valley abbiamo la regione dei grandi laghi, qui c'è anche il lago Vittoria e tutti gli altri grandi laghi della zona, diciamo, vulcanica della Rift Valley, poi fanno parte della regione anche arcipelaghi come Capo Verde, che sta un po' più a largo qui, viene inserito in un quadratino, e Sautome e Principe, che sono diciamo nazioni indipendenti, stanno nell'oceano Atlantico. Quindi, andando a vedere il profilo generale della zona, come detto, occupa circa il 60% del continente, è la macroregione più ampia, va dal deserto del Sahara al nord fino al bacino del fiume Congo e alla regione dei grandi laghi a sud, quindi sta fra l'oceano Atlantico a ovest, il Mar Rosso e l'oceano indiano qui a est, e possiamo dividerla in altre quattro aree, quindi abbiamo l'area settentrionale, estremità meridionale del Sahara e il Sahel, ecco qui, il Sahel, questa zona qui, quindi le regioni più a nord, ok? Il Sahel è una vastissima pianura caratterizzata da steppa e savanna, ci passano il fiume Nilo, il fiume Niger e il Chad, che è il lago più importante della zona, e il clima è arido perché praticamente è una sorta di confine del deserto. L'area occidentale, eccola qua, si affaccia sul golfo di Guinea e comprende l'arcipelago del Capoverde, ok? C'è un grosso altopiano che ha attraversato da lunghi fiumi come il Niger e il Senegal e scendendo dall'altopiano creano delle pianure alluvionali che arrivano fino al mare, ovviamente, e il clima è tropicale perché ci passa il tropico, ok? Poi l'area equatoriale, quindi scendendo qui in questa zona qui, è occupata dal bacino del Congo, eccola, ha una fitta foresta pluviale come tipico della zona equatoriale, è un clima caldo uvido con precipitazioni abbondanti, quindi grande caldo, grande umidità e piove praticamente tutti i giorni perché l'umidità si accumula nell'atmosfera e si scarica a sera con le piogge. Poi abbiamo il corno d'Africa, l'area orientale, eccola qua, dove abbiamo una zona particolarmente montuosa, quindi c'è la crocore etiopico e poi abbiamo la rift valley che arriva fino a sud e poi è la zona dei grandi laghi, Vittoria, Tanganica, Malawi, eccetera, eccetera, circondati da vulcani e monti fra i più alti del mondo, gli over 5.000 dell'Africa, Kenya, Kilimanjaro che è quasi 6.000, il clima è molto vario perché ovviamente salendo in cima alle montagne c'è il clima più che alpino, alcune aree sono molto aride, altre hanno una notevole quantità di precipitazioni che alimentano ovviamente i laghi, ok? Concetto chiave, ripeto quello che abbiamo detto, avete qui delle immagini, delle varie possibilità che abbiamo in questa zona qui, la savana della rift valley, la zona semidesertica con un piccolo villaggio del Sahel, eccolo qua, e la foresta pluviale nel bacino del Congo, eccoci qua, qui è proprio l'Africa che noi concepiamo, l'Africa con le foreste, eccetera, eccetera, il grande caldo, e quello lì, l'Africa centrale, d'altra parte. Allora, la popolazione, come stiamo ribadendo, più volte affrontando l'Africa è molto giovane anche in questa zona, quindi abbiamo circa 780 milioni di persone che vivono soprattutto in piccoli e sparsi villaggi rurali, rurali vuol dire sempre di campagna, la densità è molto variabile, abbiamo in Mauritania quattro abitanti per chilometro quadrato, in Ruanda arriviamo a 418 abitanti per chilometro quadrato, la Mauritania è parecchio grande, come vedete il Ruanda è piccolissimo, eccolo qua, eccolo lui, va bene. Le grandi metropoli si espandono sempre più, perché gran parte della popolazione sta abbandonando le campagne che sono sempre più improduttive per cercare fortuna in città, accumulandosi in quelle bidonville che abbiamo visto nelle lezioni precedenti. Quindi citiamo in questo senso Lagos, 300 milioni di abitanti, Kishasa 12 milioni, Addis Abeba 3 milioni, Acra 2 milioni, Dakaro 1 milione di abitanti circa. C'è un forte tasso di natalità, l'aspettativa di vita qui invece è molto bassa, a causa della sottoalimentazione, malattie, guerre, quindi ne consiglio che la popolazione è molto giovane. In questa zona abbiamo due etnie prevalenti, i Bantu, che parlano lingue swahili e le varie varianti dialettali, e i sudanesi, anche qui ci sono un gran numero di lingue, spesso molto, diciamo, differenti fra loro, e nel corno d'Africa abbiamo le etnie dei Somali e degli Etiopi, che questa è la zona che ha fatto parte dell'impero italiano nel periodo del fascismo. Allora, sono molto parlati i francesi e inglesi, che erano le lingue delle, diciamo, le potenze coloniali che hanno posseduto questi territori qua. È molto diffuso soprattutto il cristianesimo in questa zona, ma si sta espandendo molto anche l'Islam, soprattutto in ragioni come la Nigeria, la Gossa d'Aorio, l'Eritrea e la Simalia, e sopravviva anche qualche culto animista, diciamo, originario delle popolazioni africane. Ecco, allora, abbiamo parlato delle colonie, quindi ancora oggi l'eredità della colonizzazione condiziona pesantemente e negativamente lo sviluppo economico della nazione, quindi possiamo, diciamo, considerarle scarsamente sviluppate dal punto di vista economico, considerando lo sviluppo, la nostra idea di sviluppo economico, e diciamo quindi il dominio coloniale e la presenza di grandi compagnie straniere che ancora oggi monopolizzano le aree più fertili e le usano per piantagioni monoculture, insomma, prodotti che devono essere, diciamo, destinate all'esportazione e controllano, diciamo, le estrazioni delle ampie risorse energetiche e minerarie. Come abbiamo già detto più volte, il popolo, la popolazione, non riceve benefici da queste ricchezze che vengono sfruttate dalle multinazionali straniere, quindi vive soprattutto di agricoltura di sussistenza, le principali monoculture di piantagione, quindi destinate all'esportazione, caffè, cacao, ananas, arachi di cotone e caociu che vengono destinati appunto a essere esportati, caociu serve a fare la gomma, bene? Caffè, caffè, cacao per la cioccolata e per i nesquick delle vostre colazioni, l'ananas, a me non piace, però è parecchio diffuso, le arachi di sole noccioline e il cotone, e il codone, sapete a che serve? Vengono molto sfruttate anche le foreste perché si può ricavare legname pregiato come il tec, l'erbano e il mogano, quindi per i mobili di un certo livello, no? E quindi questo crea una costante e continua deforestazione e dal punto di vista climatico, questo è un male. L'importante risorsa è la pesca, però è destinata soprattutto al consumo locale, ah, cioè scusate, in parte al consumo locale, ma soprattutto all'esportazione, d'altra parte è circondata da oceano, quindi le zone costiere sfruttano anche l'attività della pesca, ok? Ci sono limitate attività industriali e sono appunto limitate al comparto alimentare, al comparto tessile. Dunque, 35 sono le nazioni che fanno parte di questa zona qui. Dunque, abbiamo detto, le quattro grandi aree sono Africa del Sahel, in cui ci sono sette nazioni, bene? E queste sono un po' le più grandi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, che sono Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Chad, Sudan, Sud Sudan, Sudan, questo ne parlavamo con Daniele l'altro giorno, ecco, Sudan e Sud Sudan. Bene, poi, 12 nell'Africa occidentale, molte nazioni sono molto piccole, come vedete, soprattutto in questa zona qui, quindi Senegal, Gambia, ecco, quasi non si vede, 10 Guinea-Bissau, 11 Guinea, 12 Sierra Leone, 13 Liberia, 14 Costa d'Avorio, 15 il Ghana, 16 Togo, 17 Benin, piccolo piccolo, 18 la Nigeria, che è la più grande, infatti la studieremo, 19 Capoverde, che sono queste isole qua. E poi nell'Africa equatoriale abbiamo il Camerun, Saltome e Principe, questo arcipelago, 22 Guinea equatoriale, 23 Gabon, 24 Congo, 25 Repubblica Centroafricana, 26 Repubblica Democratica del Congo, quindi ricordate che esiste il Congo e la Repubblica Democratica del Congo, ok? Poi 27 Uganda, 28 Ruanda, dove c'è stato l'orrendo genocidio del 1994 dell'etnia dei Tuzzi, 29 Burundi, molto piccolo anche questo, Kenya, che è più grande, adesso chiuderemo anche quello, e 31 Tanzania. Poi in giallo abbiamo l'Africa orientale, che vi ho detto corrisponde un po' all'ex impero coloniale italiano, ne fanno parte Eritrea, Djibouti, Etiopia e Somalia. Qui c'è un approfondimento storico sulle guerre africane. Dalla decolonizzazione in poi l'Africa è stata teatro di quasi 100 conflitti, molti sono ancora in corso, c'è stato praticamente un flusso continuo di guerre di liberazione nazionale, cioè le popolazioni lottavano per liberarsi dal dominio delle potenze straniere. Guerre di secessione, quindi una popolazione voleva uscire da uno stato africano e costituirne uno proprio, per questo c'è la Guinea di qua, la Guinea di là, il Congo su, il Congo giù, eccetera eccetera. Poi spesso cambiavano nome, il Congo è diventato Zaire, poi è tornato Congo, insomma ne sono successe tantissime. Vari stati si combattono fra loro, guerre fra stati, per controversi sui confini o altri interessi. Guerre civili all'interno di uno stesso paese, spesso sono chiamate anche guerre etniche perché diciamo sono fra etnie diverse che vivono nello stesso Stato per ragioni di potere e ragioni economiche, diciamo per dover controllare per esempio le risorse naturali di una regione, che può essere il petrolio ma può essere anche l'acqua, le risorse minerarie. E poi nell'Africa subsahariana ci sono stati conflitti durissimi per il possesso dei giacimenti minerari nella Repubblica Democratica del Congo. E poi, diciamo, purtroppo rinomatissimo e indimenticabile la guerra fra Utu e Tutsi in Ruanda dove ci sono stati veri e propri genocidi paragonabili a quelli della Seconda Guerra Mondiale che avete studiato a storia o che abbiamo studiato a storia fino a oggi. Ok, dunque, girando pagina abbiamo un approfondimento brevissimo sul territorio, come cambia il territorio del Sahel. Allora, come cambia il Sahel? Di solito il libro, diciamo, in queste occasioni ci mette due immagini tipo 100 anni fa oggi. Adesso invece abbiamo tre step, 60 anni fa, 30 anni fa e la situazione attuale. E cosa ci dice qui? Che in questa zona semidesertica la popolazione nei millenni aveva stabilito un equilibrio abbastanza fruttuoso con l'ambiente, quindi aveva sfruttato relativamente il territorio con una certa saggezza. Poi sono arrivate le multinazionali a portare, diciamo, le monoculture e questo ha creato un avanzamento del deserto perché ha sfruttato intensamente un territorio che non se lo poteva permettere. Quindi, 60 anni fa, ampie parti di territorio sono prive di coltivazioni, cioè la tipica vegetazione della savana con grossi alberi di acacia, molti alberi di acacia, piccoli villaggi ridotti, la popolazione viva di agricoltura di sussistenza e in alcune piccole parti di pastorizia. Dopo un raccolto la terra è lasciata a riposo per lunghi anni in modo da non diminuirne la fertilità e sui terreni lasciati a riposo i pastori portano le greggi che quindi mangiano l'erba che è avanzata e concimandoli ne migliorano la fertilità. E questo era una sessantina di anni fa. Una sessantina di anni fa, alla fine è il 1960. Manco tanto, no? Trenta anni fa, appunto, sono arrivate le multinazionali, il paesaggio è entieramente coperto da piantagioni di proprietà delle multinazionali, dove parte della popolazione locale ha trovato lavoro. La popolazione è aumentata notevolmente, il villaggio si è ingrandito, sono stati scavati molti pozzi per i bisogni idrici della coltivazione della comunità. I terreni destinati all'agricoltura di sussistenza sono diminuiti, gran parte degli alberi di acacia è stato abbattuto per fare spazio alle nuove coltivazioni, le greggi sono aumentate e si sono affollate su superfici di terreno sempre più ridotte. Oggi, a causa dell'eccessivo sfruttamento dei terreni, l'avanzamento della desertificazione è stato impetuoso e molti terreni non sono più coltivabili. Proviene il vento da nord-est che porta spesso alti nubi di sabbia che rovinano le poche coltivazioni rimaste. Gran parte della popolazione è stata costretta a emigrare per sfuggire alla siccità e alla fame. Per limitare l'avanzata del deserto i terreni vengono divisi inquadrati al centro del quale vengono ripiantate le acace, le cui i radici limitavano l'avanzata delle sabbie che erano state levate e male fu. Quindi Sahel, che in verbero significa a bordo del deserto, è una regione arida e stepposa ai confini meridionali del deserto del Sahara. Per millenni c'erano comunità dedicate a agricoltura di sussistenza e a pastorizia. Nonostante la scarsa disponibilità di acqua e la poca quantità di piogge hanno sempre mantenuto un buon prezioso equilibrio con l'ambiente semidesertico. I ritmi della coltivazione di miglio e sorgo, che erano i cereali di culture tradizionali, erano tali da non sfruttare il terreno e non compromettere la fertilità. Anche per anni i territori hanno lasciati a riposo per riprendere la propria forza, le greggi, gli ovigni e i caprini si nutrivano di ciò che rimaneva dopo il raccolto delle erbe nate sui terreni che erano rimasti inconti. Anche i pascoli venivano cambiati frequentemente per permettere all'erba di ricrescere. Dalla seconda metà del Novecento il territorio è stato sconvolto più dall'uomo che dalla siccità. La popolazione africana ha continuato a crescere, ha cominciato a crescere a ritmi molto alti. Molti terreni sono stati utilizzati dalle multinazionali per le loro monoculture di arachidi e cotone destinati all'export, riducendo lo spazio per l'agricoltura di sussistenza del pascolo. I terreni sono stati sfruttati molto intensamente a danno della loro fertilità. Sono stati scavati numerosi pozzi per irrigare queste piantagioni e questo ha prosciugato la regione. E tutto ciò ha alterato un equilibrio che andava avanti da millenni in maniera efficace, abbastanza efficace diciamo. L'avanzamento della certificazione quindi la conseguenza principale di tutto questo causa ovviamente gravi carestie e spesso la popolazione è costretta a emigrare per sfuggire alla denutrizione. Quindi vi fate questa piccola attività cercando di diciamo cogliere il messaggio che vi viene lanciato e a questo punto il nostro viaggio sull'Africa subsahariana finisce. Riprendiamo i nostri amici turcunda. Tanti saluti a tutti, buona Africa! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!